I vigili del fuoco di Asiago sono intervenuti a Gallio, in zona Colle del Gastag, per recuperare le carcasse di almeno 25 pecore con ogni probabilità sbranate dai lupi. Dopo aver rinvenuto gli animali, i pompieri hanno avvisato la polizia locale dell'altopiano, impegnata assieme al veterinario per esaminare gli animali. Non è la prima volta che vengono rinvenute delle pecore divorate dai lupi. Il veterinario, chiamato ad esaminare le carcasse, dovrà accertare quali siano stati gli animali che hanno aggredito e ucciso il gregge, se si sia trattato effettivamente di lupi.